Oggi voglio parlarti delle due felicità. C'è un vecchio detto che dice chi si accontenta gode. Ebbene, c'è appunto una felicità di chi si accontenta e c'è una felicità di chi non si accontenta. Cosa voglio dire? Voglio dire che possiamo tranquillamente andare avanti durante la nostra esistenza cercando solo di soddisfare quei bisogni che Maslow definirebbe bisogni fisiologici, bisogni di sicurezza e poi bisogni di appartenenza e poi bisogni di stima e magari soltanto alla fine della nostra vita cercare di puntare all'autorealizzazione. Allora in questo caso sarebbe un accontentarsi, sarebbe un perseguire, ottenere probabilmente la felicità che nasce dall'accontentarsi, ovvero dall'ottenere sicurezza, beni materiali, riconoscimento, appartenenza. Anche se questo vuol dire non poter investire tempo ed energia nel cercare la nostra voce interiore, il nostro vero scopo nella vita. Sì perché magari mentre da ragazzo stavo cercando di realizzare il mio sogno mi sono arrivate delle opportunità apparentemente, delle opportunità, delle richieste, delle proposte e io ho virato, ho accettato, ho fatto in modo di realizzare quel percorso che poi mi ha portato ad ottenere dei riconoscimenti, un lavoro, un tipo di relazioni di una certa parte della comunità. Poi ho incontrato la mia compagna, ho creato la mia famiglia, ho comprato la macchina, la casa, sono una persona rispettabile in un ambiente che mi riconosce un valore e ho conseguito quella che è appunto una felicità che nasce dall'accontentamento. C'è invece appunto chi va verso un altro tipo di felicità, quella felicità che nasce dal non accontentarsi che nella prima parte dell'esistenza probabilmente ti porta ad avere di meno, ti porta a dover rinunciare, a dover perdere, a dover dire dei sacrosanti no, no alle apparenti opportunità, alle richieste, ai condizionamenti e questa è la felicità che nasce dal non accontentarsi. Quindi se la prima felicità nasce dal accettare un livello di frustrazione nella propria esistenza, la seconda nasce dal rifiutare questa frustrazione, da perseguire quell'obiettivo finale che è poi il nostro destino, la nostra chiamata in destinoterapia, la nostra vocazione diciamo noi in destinoterapia. Ora io non so tu quale felicità stai perseguendo o quale felicità hai ottenuto, fatto sta che molto spesso nella vita succede che chi ha raggiunto o è sulla strada della prima felicità quella di chi si accontenta, a un certo punto scopre che quella non è più tale. La condizione che sembrava una condizione luminosa, festosa, piacevole, gratificante diventa uno stallo, una palude, una pozzanghera in cui ci troviamo, sporchi di insoddisfazione, di malumore, di malessere. Percepiamo una cupezza, percepiamo un'angoscia anche se sottile, percepiamo una frammentarietà e le persone che prima ci sembravano le persone giuste non sono più tali. Le cose che facciamo perdono valore, perdono di significato e le cose che non abbiamo fatto ci fanno male come un grande rimpianto. È ancora possibile in qualsiasi fase, in qualsiasi momento della tua esistenza rimboccarti le maniche e ritornare sul percorso della felicità di chi non si accontenta. Lo puoi fare anche tu in questo momento, magari con l'aiuto dei consigli della destinoterapia. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e guarda gli altri video, ma soprattutto guarda dentro di te e guarda avanti a te, nella strada che da bambino sai che devi perseguire, che puoi ancora perseguire, che puoi ancora percorrere. È la strada che ti porterà sicuramente alla vera felicità. Quindi chi si accontenta gode è un motto che ha fatto un sacco di guai. Ciao!